Abbiamo atteso di vedere i comportamenti nel ponte dell'8 dicembre e dopo quanto successo anche in montagna abbiamo deciso di intervenire sul fronte assembramenti. Così il presidente Zaia spiega il perché della nuova ordinanza in vigore da sabato. Ribadite le principali misure inserite nei precedenti provvedimenti come l'uso della mascherina, la capienza delle attività commerciali, la perimetrazione dei mercati. Inserite poi due novità, la prima riguarda i bar. Dalle ore 11 nei bar del mattino, dalle ore 11 non si consuma in più in piedi e nel bar dopo aver consumato sulla mascherina. Altra novità pensata d'intesa con il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga riguarda l'orario consigliato agli over 65 per l'accesso nei supermercati. Dalle 10 alle 12 in teoria se ce la facciamo la fascia dedicata agli over 65. Ordinanza che arriva in una giornata che registra un nuovo record negativo sul fronte ad eccessi con 148 morti nelle ultime 24 ore. La curva del contagio però mostra una lieve flessione e anche l'RT si sta abbassando in una seconda fase che per il presidente Zaia non ha più senso definire così. Ma le contate ancora le fasi e l'unica roba a dire è che finché non arriva l'estate non se ne va via. Speriamo che i picchi in alto siano bassi. Non se ne va il virus. Il virus da un punto di vista ospedaliero, sanitario, se ne andrà con l'arrivo della bella stagione. Ovviamente il vaccino ci aiuterà. E a proposito di vaccini, nel piano vaccinano e nazionale sono previsti tre blocchi con altrettanti lotti in tre trimestri. Un primo trimestre gennaio-marzo dove arriva la prima vaccinazione, quella umanamente più importante che quella delle RSA, degli over 80 e degli operatori sanitari e di coloro comunque che sono categorie super a rischio. Poi arriva un secondo lotto marzo-giugno dove si inizia ad andare sulla popolazione diciamo meno a rischio e poi l'ultima fase giugno-settembre nella quale si dovrebbe chiudere la vaccinazione di tutti i Veneti.